ciao ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale come promesso vi ho fatto in video digitale vi avevo fatto un soldaggio su instagram chiedendovi se preferivate vedere un video fatto in digitale o fatto a mano e avete scelto in digitale quindi eccovi accontentati ho optato per questo meraviglioso abito di valentino indossato da lady gaga per il golden globe e nulla ragazzi io vi mando il proseguimento del video se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche e seguitemi anche sui miei social facebook e instagram per qualsiasi domanda potete chiedermi qui sotto nei commenti e sarò lieta di rispondermi se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel like io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao